Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Lucky Sfida Ragazzi oggi sono emozionato nel dirvi che siamo nella versione Che fail Comunque versione 1.8.9 I vecchi Lucky Block, poi i vecchi tra virgolette Mi mancavano veramente molto Io sono un pirla Oserei dire quasi illegale cominciare il video così Però eccoci qua In questo episodio ragazzi andremo ad aprire 30 Lucky Block Delta Che ci piacciono tantissimo 15 Rainbow, belli 15 Spirali E 10 Astral Gli Astral li mi ha aperti così poche volte Che io nemmeno so se sono buoni oppure no Veramente c'ho un dubbio assurdo su questi qua Però ho detto boh Potrebbe essere interessante aperli Quindi sbam Eccoci nei 10 Detto questo appunto Vorrei cominciare dagli Astral Ehm no No se si comincia Ultimo ma questi facevano cadere le cose che mi davano Wither C'è proprio mi volevano killare male Ma non smette più Ok finito Vediamo qui Ah beh quelli Ma gli Astral sono quelli delle stelline per caso a questo punto E si guardate Ho fatto scortare le stelline Poi qui Ultimate chestplate No Protezione 4 Unbreaking 3 Questo è veramente buono Purtroppo non mi ha dato i livelli Quello è un problema Ma nemmeno gravissimo Uno era vuoto Giustamente perché quelli vuoti ogni tanto vanno trovati Questo tipo uova Diamanti Altro che uova Buonissimo E beh ragazzi Io però vorrei anche uscire di qua Ma tu cosa scambi No ragà Questa qui L'armatura potentissima E non costa nulla Bello mio Però mi sa che esploderemo tantissimo qui dentro No e No 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 Non ti volevo picchiare E mo come faccio Cioè non posso spacciare Devo ammazzare lui Ah io mi picchia Ah no in effetti mi tira le palle di neve No no mi picchia Ragazzi Dai ma non posso Vabbè uccidimi Ti prego uccidimi Non potevo più uscire di lì E ricreavo il blocco sotto E non posso nemmeno aprire l'h Il blocco che stava sotto Perché Ecco appunto C'è il coso lì C'è la sbarra Non ho un piccone Quindi niente In compenso posso prendere tutti questi bellissimi diamanti Che saranno sparsi in giro Beh non erano nemmeno tanti 13 Onesto però Cominciamo con gli spiral Anzi no ragazzi Io vorrei passare a questi Perché questi qui Potrebbero darmi Veramente robe buone Ma sbaglio O ne avevo tipo 30 E me ne ha Givati 10 Questo lucky block qui Boh sono Veramente confuso Ok spugne No comunque ragazzi Semplicemente No no Stami lontano Ah all'arco Non mi fa malissimo eh Però quella roba lì Non mi piace Tutto perché non posso affrontarlo Oh mio dio ragazzi Cosa ho trovato Una falce Ok Asharnes per fortuna E da qui Più o meno In modo trash Ma me ne esco Sempre se non esce qualcosa di buono Ok Aio Uh buonissimo questo Però devo levare di torno Il tipo lì Perché veramente raspa E con quest'oro qui ragazzi Possiamo anche Andare a comprare Le cose dal tipo Anzi ragazzi Prima Li do un bel weeder Poi li do un bel poison Che essendo uno scheletro Non so se lo aiuto Oppure no E poi li spammo Di colpi addosso Con la nostra Ok perfetto Abbiamo un po' d'armatura Almeno Almeno questo si Ora per andare qua giù Com'è che faccio Mi faccio un robo così Beh Sicuramente c'era un'alternativa Tipo andare a prendere i blocchi Che mi ha fatto cadere là Però vabbè E comunque è una soluzione Beh infatti ora prendo questi Per salire dall'altra parte Perché non posso fare le scalette Con i lucky block Veramente Allora Cominciamo a fare scambi Interessanti Prima di tutto vorrei prendermi Una chest split Dei pantaloncini E le scarpette O abbastanza per il resto No costa 9 ragazzi Perché costa così tanto Quel pezzo del più costoso Comunque guardate Quanto cavolo Mi dà di protezione Sbam Tantissimo ragazzi Tantissimo Siamo infatti full Io non so perché sia così potente Questa roba Ma non mi lamento Ora cerchiamo di eliminare Questo tipo qua No raga Troppa vita No ci sono finito dentro Io voglio soltanto aprire Il lucky block sotto Come faccio ad uscire Non posso posizionare i blocchi Vabbè Oh ti uccido No aspettate Mi lancio le cose E mi colpisco io ovviamente No ragazzi Non è propriamente una spada Potrei anche passare agli altri E vedere se esce qualcosa Magari di un pochettino meglio Tipo ecco qui Se mi andessi a mettere questo qua Vedete la protezione è uguale Però questo ha pure incantamenti Mentre se mi andessi a usare il corpetto E' uguale identico ragazzi Praticamente E' come un'armatura in diamante Soltanto che Ha delle cose interessanti E queste robe qui Non si sa Se sono fortunate oppure no Quindi nel dubbio Te le tieni te Allora Io non so nemmeno Cosa sperare di trovare Sinceramente Beh Questo non mi sembra molto utile Proprio detto che è retondo E mi ha preso Un martello Ok ragazzi Veramente figo 10 di danno Fortuna Perché è fortuna Non lo so Vediamolo un attimo in F5 Perché sembra figo Bellissimo Veramente bello Però Ah no che pensavo fosse lento Invece non è lento Tra l'altro mi sono avanzati Questi qui da aprire Quindi apriamoli a raffica Ragazzi Vediamo se esce qualcosa No te no Prova la spada laser ragazzi Lui con la spada laser Forse Me la potrebbe droppare Quindi Tiriamoli un pochettino di cose Che danno wither Mi sono witherato io Perfetto Ragazzi va eliminato lui eh Ve lo dico Ma se non sbaglio Ci ho passato episodi interi A provare di eliminarli Non ci sono mai riuscito Quindi Facciamo che per il momento Si passa a killare gli altri eh Poi lui Si avanza Tempo bene Comunque Quando era rimasto uno Da aprire Apriamolo E' una cosa che so già Che è inutile quella lì Quindi non la guardo nemmeno E vediamo se In quest'altro C'è qualcosa di buono Anche per ragazzi A questo punto Eliminare il tipo là Perché non so nemmeno Se sia rimasto Oppure no Sinceramente Anzi in verità Non lo vedo più Cioè no 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 Fammi scendere Fammi scendere E' un ghast ragazzi E' un ghast Non so come Parca puttana Non farlo mai più Ti prego Allontaniamoci Che lì non mi sta piacendo molto E nemmeno qua Mi piace tantissimo eh Devo dirlo Ma io penso che il tipo Se ne sia andato Vabbò Poco male ragazzi Poco male Questo cos'è Un tempio di TNT Con delle ceste al centro Ok Smeraldi Roba inutili Beh per il momento Non mi servono queste cose Quindi lascio lì In caso Mi dovessero servire in futuro Ci può anche stare prenderle Detto questo Allora qui abbiamo Un pochettino di pozioni Queste qui ragazzi Sono pozioni buone Perché sono Super lucky potion Perché c'è il super Oh mio dio 260 Ragazzi devastiamo il nemico Capito Poi qui c'è una lucky potion Un'altra Ragazzi quante lucky potion Mi vende Quello che mi interessa a me E' la spadina Lo so E' soltanto 3 di danno in più Lo so benissimo Però comunque non è male Tanto ok Abbiamo trovato le mele dorate Le mele OP Ho trovato anche un lucky block normale Ragazzi io non so dove le ho tirate fuori queste cose Ma come ne sono mai accorto Comunque stavo dicendo Sì quella spada lì Non è molto più potente Di quella che avevo già prima Ma comunque Sono 3 di danno in più Magari la trovo anche io potente Però per il momento Mi potrebbe servire Molto 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 Diciamo potrebbe fare la differenza Detto questo Io sono in una fucking trappola E nulla Ragazzi nulla Veramente Continuo da aprirli qua dentro Sono in una butte di ferro Veramente Comunque questa roba qui Ha protezione 15 Quest'altro invece Ha vari incantamenti Ma non ce l'ha così alto Quindi preferisco quello lì E Perfetto In questo modo ragazzi Possiamo uscire dalla trappola Perché abbiamo buggato tutto Ok Questa roba qui Ha distrutto la trappola invisibile Che c'era prima Perfetto Scarpettine normali Quindi non mi interessano Unlucky potion ragazzi Questa qui potrebbe invece servire Diciamo contro Qualche boss No Perché Perché Vabbè uccidimi Tanto What Sono Ero sopravvissuto Poi sono morto di fuoco Cioè ok Però ero sopravvissuto A tutte e due Cosa Devo dire che ero quasi tentato di mangiarmi una mela durata per non creparci Però in effetti Non ne valeva assolutamente la pena E oltretutto Stiamo anche finendo i lucky block Sì ragazzi Perché è rimasto questo qui Che è l'ultimo E poi ce ne sono altri 30 Di quelli delta Che ricordiamo che i delta Secondo me Sono i migliori Cioè ovvio Ci possono essere cose brutte Però quelle belle Sono veramente molto molto belle Comunque vediamo Se anche stavolta Ci va di fortuna con i delta Perché in genere ci va sempre di fortuna con i delta Nel bene o nel male Mi trova sempre roba buona Che poi gli tocchiare tondo La roba buona già ce l'ho Ecco abbiamo il bob 2.0 Qua gli lanciamo un unlucky potion Lo colpi Ragazzi Ha instant shottato No Vabbè lo rallenta Guardate È tipo Ha slowness 10.000 Secondo me E in questo modo Lo possiamo uccidere tantissimo Poi gli lanciamo un weeder Vabbè gli lanciamo un pochettino In alto ragazzi Non lo useremo contro il boss E spammiamo un po' di colpi E spamme ragazzi L'abbiamo eliminato C'è dato una spada Che fa 8 ridanno Non la voglio Diamond leggings Che sono peggio Di quelli che ho ora E un elmetto Che invece questo è buono Perché prima avevamo Quello lì in schifo Dello stormtrooper Mentre questo qui È un diamante Oltretutto Con una bella protezione Comunque continuiamo Io ragazzi Non so più nemmeno Lo so che ho visto L'hackbook lì Ma nemmeno mi interessa Non so nemmeno Cosa sperare di trovare E ho detto sinceramente Oddio Questa è roba Questa è roba buonissima Ragazzi Tipo Però cavolo Le spugne le ho usate Vabbè sì Ok Però cosa ci faccio Poco con gli smeraldi Nulla No Ragazzi Guardate Posso prendere la spada Che fa 19 di danno Wow 19 è tantissimo E questa Fa sempre 19 Emerald Apple Ok Speravo di trovare anche Quello lì tipo Che voleva il beacon E mi dava le robe Strappi Però niente Però ragazzi Cavolo Spara 19 di danno E tanta roba Comunque Da notare come quel coso lì Mi faccia Mi dia un boost assurdo Ma non faccia nulla Ragazzi Ora che ci faccio caso Notch Caro mio Notch Tu mi hai dato Una bellissima Mela OP Forse più di una Ma vedo che in mano Hai una bella spada Ma non è che me la potresti No Non i pantaloni Non fare queste cose La spada Ok La tua spada Ok Fa 10 di danno Pensavo meglio Sinceramente Pensavo fosse quella lì Da 20 di danno Però comunque In futuro potrebbe servire Una spada da 20 di danno Veramente fragile Quindi ha due utilizzi Fa 0,5 in più della mia Ragazzi E ha due utilizzi Quindi la buttiamo per terra Questa qui Shottato subito Ok Penso Fosse una cosa a caso E qui E un'altra Lucky potion Sì perfetto Potrebbe servire anche questa Teniamola Vediamo se riesce a trovare Qualcos'altro Ragazzi No Perché le trappole ora Non c'ho voi Mi bevo Me la son tirata Ma che schifo di Lucky potion E' veramente orribile Non dà così Effetti negativi Vabbè mi levo un po' D'armatura Perché sennò non crepo più Ultimi 12 lucky block Mannaggia a voi Non fatemi morire qua Vi prego Io non ho trovato Nemmeno un piccone Riuscirò ad aprirli Senza troppi imprevisti Lo scopriremo Io sinceramente Nemmeno ci spero Ok Lo stormtrooper Ragazzi Mamma mia Prima vi ricordate all'inizio Come quanti colpi ci volevano L'abbiamo shottato ora No No Ok Oh Che potente Mi piace Vabbè io li apro qua dentro Cosa me ne è uscito No Ragazzi ma what the fuck Me ne ero appena liberato Me ne esce un'altra Tra l'altro Pozione Vediamo un attimo Questa armatura Che fa schifo Pozione Pozione Che non posso prendere Che sta nellì Nell'angolino E tra l'altro Nell'angolino Mi sa che ci sto io Perché mi sono un po' Buggato No ok ce l'ho fatta Dai Ragazzi Sono gli ultimi Svezze Ok una spada La spada comunque si vede 13 di danno Come quella che ho comprato io Sennò che prima l'ho comprata Poi ci tiriamo dentro qualcosa Mi spinge via E apriamo l'ultimo In cui si trono dentro le schifezze Beh ragazzi C'è andata bene Ma c'era andata bene Sin dall'inizio Diciamo che la seconda parte Di spacchettamento È stata un po' inutile Perché abbiamo trovato Sostanzialmente schifezze Comunque In teoria Se tutto va bene Ce la dovremo fare Detto questo Andiamo a sistimarci l'inventario Questa roba La lasciamo qui E devo dire Questo è uno dei più deludenti In base a ciò che ho trovato Cioè Nonostante sia messo molto bene Perché cavolo S'ho messo molto bene Tutti i diamanti Tutti gli smeraldi Che ho trovato Non hanno avuto senso Perché Non sono stati utilizzati Sono abbastanza triste Per questa cosa Comunque ragazzi Il boss di oggi È abbastanza particolare Intanto Non è solo un boss Ma sono ben due boss Che sponeranno tutti insieme E come potete vedere Sono qui al centro Con il command block Perché questo? Perché purtroppo Chi ha creato Il command block Non l'ha creato molto bene Cioè Non è che c'è un oggetto Che boom Butta per terra E spona il boss No Il boss spona Quando clicca il bottone Quindi Wow Vabbè Allontaniamoci subito Ragazzi Io So che il boss È molto potente Infatti mi farò colpire Una volta sola Non è che non mi ha fatto Nemmeno tantissimo Però ragazzi Proviamoci Allora ci sono questi cosettini qui Che sono gli scagnozzi Che vorrei subito eliminare Perché sono lezzissimi E poi Vorrei andare bene dall'acqua Perché so che a voi Non piace l'acqua Fa sponare ragazzi Due nemici Che sarebbero questi qui Cioè questo qui Non è veramente un nemico Però noi comunque Lo dovremo eliminare Perché fidatevi Da la roba OP Quindi Leviamolo Di torno Purtroppo ragazzi Fa le bizze Ha un bordello di vita Non so quanta vita abbia Però non ci crepa mai E mi sta anche picchiando E mi è passato l'effetto Della mela d'oro Ma per fortuna Ma il cane Non fa molto danno Da vedere come arriva La raffica No ok perfetto E mi ha dato il suo drop Che andremo a vedere dopo Detto questo Il boss ragazzi È scappato È scappato Guardatelo Guardatelo ragazzi Sapete cosa è successo? Io il boss L'ho provato Funziona benissimo Il problema è che Praticamente È stato triggerato Da qualcuno E vuole andare a combattere Contro qualcosa Che è sponato di là Non so contro Chi vuole combattere Quindi ragazzi Prima di sconfiggere il boss Io dico che potremmo fare Questo test qui No no scusa Non ti volevo picchiare io Vai vai a combattere No 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 Gary 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 vuole combattere Contro chi volevi combattere Te ti prego Volevo vedere Che andava a attaccare Perché è stato triggerato Da qualcuno Che voleva uccidere Non so chi ragazzi Vediamo chi vuole uccidere Non voglio Ah io voglio uccidere me No no Gary Gary Che stai facendo Fermati Ok ok Guardate chi attacca Vediamo chi attacca Che fa Corre a caso Ah Vedete No Non capisco Vuole attaccare Si sta attaccando il golem Praticamente Si si combattono tra di loro Però penso vinca il Gary Perché Gary è molto più potente Gary dovrebbe shottarlo il golem Però viene attaccato da un po' tutti Gary dai mi stai deludendo No un po' attacca me Un po' il golem Vabbè ragazzi Combattiamo qui Chi se ne frega Guardate è impazzito Chi vuole uccidere ora Ah il coso qui Vuole prendere Beh giustamente Era triggerato Dal Dal tipo qui Che vuole trasformarli in zombie Però ragazzi Noi siccome vogliamo fare Uno scontro alla pari Non possiamo ucciderlo Nemmeno E' immortale E' immortale ragazzi Quindici in questo momento Ragazzi è abbastanza potente E' abbastanza potente C'è anche scritto Che è potente Fidatevilo eh Ma l'armatura in diamante Un'armatura normale in diamante Come potete vedere A torsa L'espirazione Protezione ai proiettili Cioè insomma Ha un po' di incantamenti Interessanti Però dovete killare il cucciolotto Che non è proprio il massimo Detto questo ragazzi Io spero che questo video Leggissimo Vi sia piaciuto E quindi Ciao a tutti